wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia quante novità nel video di oggi riguardanti il futuro di fortnite e tutte le notizie delle ultime 24 ore vedremo immagini incredibili del doomsday device quindi dedicate all'evento di questa season parleremo di ciò che sta succedendo e ci saranno tante tante curiosità prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e ora andiamo direttamente nel primo argomento di oggi e porca miseria porca non doveva essere questo perché c'è questo ho fatto un errore chiedo scusa ragazzi siamo in diretta siamo in diretta non è vero il primo argomento di oggi ragazzi si parla di fuoco nella season 3 se ne parla già da un po abbiamo visto alcune immagini riguardanti ad esempio l'ombrello in fiamme presente sui cartelli a lago languido ma anche in altre parti tipo a parco pacifico e nei teaser e tra l'altro uno degli impiegati di epic games dice una cosa molto curiosa su twitter il fuoco è strano dice succede quando cosa succede nel fuoco l'atmosfera intorno grazie a una reazione chimica si modifica e tutto quello che c'è intorno al focolaio iniziale inizia a bruciare distruggendo tutto questa è una cosa molto curiosa e va ovviamente ad inserirsi nelle curiosità riguardante la stagione 3 dove oltre all'acqua quasi probabilmente ci sarà anche il fuoco quindi una contraposizione tra due elementi che secondo me renderanno la season in sé molto molto curiosa e ovviamente unica ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi e si parla della prigione e della skin di quale prigione mi riferisco mi riferisco quella che c'è allo squalo e con il buco vi ricordate ragazzi che un bel po di tempo fa appena uscì appunto la modifica allo squalo vi feci il video della prigione con il buco poi c'era il calendario dove si segnavano tutte le date pensavamo che nella prigione fosse stato imprigionato oro invece non è così è quasi certamente questo il prigioniero la skin che uscirà probabilmente anzi certamente questa settimana e tra l'altro che avrà delle l'outfit in regalo mi spiego meglio la skin la dovremo shoppare se la vogliamo ma il piccone il deltaplano e la copertura ci verranno regalate con le sfide dell'agenzia che secondo me arriveranno martedì o al massimo giovedì oltre ai punti esperienza anche un bel po di regali questa skin appunto ha assolutamente senso che possa essere il prigioniero perché come sappiamo nella schermata di caricamento che sta per arrivare e che ci verrà regalata c'è proprio lui che sta combattendo in agenzia contro gli scagnozzi e non sappiamo praticamente nulla chi sia quale sia la sua fazione perché non è delle ombre e non è degli spettri è di una fazione che non conosciamo l'unica cosa che sappiamo è che sul suo piccone come potete vedere in questa immagine c'è un logo le due greche potremmo chiamarle quindi i due loghi che sono anche presenti sul cappello della recon expert probabilmente farà parte del suo set ma non sappiamo assolutamente chi è quando ci saranno delle informazioni le saprete anche voi e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle modifiche che probabilmente avrete già visto invece in game alcune le avete viste altre ve le faccio vedere se andiamo a vedere nei file decriptati di ieri pomeriggio come vedete c'è agencyhatchwaterinteraction.wasset che cosa vuol dire vuol dire che vi faccio vedere mentre vi spiego iniziano ad esserci delle animazioni in agenzia e in questo caso si tratta proprio dei cinque dispositivi che sono all'esterno dell'agenzia che come vedete hanno cominciato nelle prime ore di ieri pomeriggio a far uscire delle bolle non sappiamo assolutamente da cosa siano da cosa dipendano queste bolle sappiamo che c'è il doomsday device attivo ci sono vari stage della sfera ma non è detto che sia proprio la corrente che passa l'acqua a creare delle bolle non mi risulta questa cosa però anche qua ci saranno aggiornamenti a breve e andiamo avanti perché c'è un'altra teoria molto molto interessante qualcuno dice vi ricordate che nella stagione 9 ci fu un'interazione con l'evento del cactus contro il dogus direttamente nella statua di tilt town non so se vi ricordate ragazzi il mecha praticamente robottone gigante che sembrava si piegasse sotto la forza del mostro che è uscito dall'acqua poi in realtà prende direttamente la statua che non era altro che l'elsa della spada che appunto poi gli è servita per vincere e riportare la pace su fortnite non sarebbe un caso pensare che magari nella statua principale dell'agenzia quella che vedete nell'immagine di destra possa esserci nascosta adesso la doomsday device che potrebbe appunto aprirsi e cominciare a fare quello per cui è stata progettata e tra l'altro guardate che meraviglia questa è un'immagine presa direttamente dallo stage finale dell'evento della del doomsday device quindi sapevamo che aveva tre fasi la prima dove c'era poca corrente la seconda dove c'erano delle vibrazioni al suo interno mentre la terza è proprio il chiaro sintomo di un sovraccarico o comunque della massima potenza che andrà a buon fine ci auguriamo di no ovviamente per non distruggere tutta la mappa e tra l'altro vi voglio fare vedere un altro spezzone molto molto velocemente che riguarda sempre la fase del doomsday device di cui vi ho parlato poco fa e ne approfitto per ricordarvi che c'è anche da qualche ora in lobby e nella stanza di mida il timer lo stiamo vedendo proprio sopra la scrivania che si muove lo trovate anche ovviamente in tutte le lobby di gioco e sappiamo che l'evento sarà programmato per sabato prossimo alle ore 20 quindi ragazzi non possiamo perdere questa nuova fantastica introduzione alla stagione 3 che poi invece arriverà il 4 giugno è molto probabile che questa settimana forse addirittura nelle ore pomeridiane di oggi arriverà il mega countdown sopra l'agenzia quello che siamo abituati a vedere insomma non ci resta che dare un'occhiata ma la cosa invece molto curiosa arriva da dei leakers egiziani addirittura ragazzi che hanno trovato delle informazioni molto interessanti nei file decriptati dell'evento che appunto abbiamo parlato fino adesso e qua dicono tradotto in italiano ad un certo punto dell'evento la tempesta farà qualcosa con noi quindi interagirà con il personaggio molto probabilmente potrebbe teletrasportarci o potrebbe inghiottirci sappiamo che la tempesta sta per arrivare anche perché se voi fate attenzione quando scendete dal bus vedete che c'è un cerchio di nuvole intorno all'agenzia che quasi certamente più vanno avanti i giorni più si avvicina l'evento più cresceranno e creeranno proprio la tempesta che mida stesso vuole controllare quindi lo vediamo proprio là cerchiato in storm è proprio la voce che ci interessa quindi staremo a vedere anche qua che cosa succederà con i personaggi e andiamo avanti a parlare dell'ultimo argomento di oggi perché il signor Donato Mostarda dopo un bel po' di silenzio torna a cambiare la sua location nella pagina ufficiale di twitter non ce la faccio troppi ricordi non ce la faccio con il mostarda quando aspettavamo le seso che era lì a contargli le dita della figlia che non sapevamo perché ne avesse tre ne avesse quattro mi piace un botto mi piace un botto perché comunque contribuisce a creare hype per questo evento io personalmente più mi avvicino a sabato e più mi cresce la voglia di vedere che cosa succederà sono assolutamente convinto che non verremo delusi insomma ragazzi anche per oggi tantissime notizie riguardanti il futuro di fortnite io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao ciao